Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulle raccordo di Benevento, da lunedì 7 maggio a venerdì 20 luglio, nella fascia oraria 8-18, esclusi il sabato e di giorni festivi, per lavori attivo le restringimento di carreggiata tra gli svincoli San Giorgio del Sagno e Benevento Sud in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla strada statale 7 Appia, fino al 5 giugno, nella fascia oraria 7-19, esclusi i giorni festivi, per lavori attivo il senso unico alternato tra Santa Maria Vico e lo svincolo Benevento della 16 Napoli-Canosa in tratti saltuari. Sulla strada statale 85 Venafrana, fino al 5 maggio, per lavori attivo il senso unico alternato, tra le località Presenzano e Venafro. Sulla tangenziale di Salerno, fino alle 22 di lunedì 30 aprile, per lavori è chiusa la rampa d'ingresso dello svincolo Via Irno in direzione nord. Per queste ed altre informazioni consultate il nostro sito. L'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.